Sono 15.500 lire, gli specchi li teniamo in cassa, saranno mille lire. Ah papà, a che stai da pensare? E guarda da vedermelo ancora, là, tra quei due arberi, passeggiare in su e giù, non l'ho vista mai per massimo momento. La prima arriva e l'ultima andava via, con freddo certe volte. Se pioveva, già aveva il suo ombrellino, le sue caloscette, che puntualità, che precisione. Antroga l'impiegata, non dava confidenza a nessuno, faceva il dovere suo e basta. Per questo, casa e bottega, bottega e casa, mai un divertimento, mai una distrazione. Tu madre sì, che era una santa donna. Come era bella? Bella, una madonna. A basti di che dove l'altro facevano uno, le faceva tre. La meglio clientela era la sua, professoroni, avvocati, artisti. Una volta un ministro, che non ti faccia il nome, gli regalò 50.000 lire per la sua grande arte. Perché l'arte sua era quella di far credere che era innamorata di tutti. Ma io lo so, che me voleva bene solo a me. Ma papà, non ci state a pensare. Si va a malare voi? Io che faccio? Hai ragione, credora mia. Ormai devo campare solo per te. A stracca lei! Oddio! A stracca lei ferma, dovevo fare una spedda! Bello sto cane, quant'hai pagato? Solo 200 lire al chilo. E che moigani se comprene a chili? E come lo vuoi comprare? A chilometri? Ma va a far ride, come se fosse roba da mangiare. E infatti in Cina, paese della civiltà millenaria, se li mangiano. Ma davvero devo mangiare cane? In mancanza di abbacchio. È proprio vero che voi artisti siete tutti matti. Rosso pomodoro. E adesso stai ferma, se no ti faccio strabica. Tu sei nervoso. Scommetto che non c'hai da fumare. E questo che so? Anna, ma che non ce lo so che sei un drogato frasico. Nandi, ma che ti sta dando di volta il cervello? Oh, ma io mi codico a nessuno. Basta. Mi hai fatto passare l'ispirazione. Ammazza quanto me vedi brutta. Ma che so così io? No, tu sei pure peggio. Ti ho sublimato con un'interpretazione psichedelica. Mamma mia. E che vuol dire? Non te ne incaricare. Non sono cose per te. Piuttosto pensa a portarmi la pasta meno scotta, se non vuoi costringermi a cambiare trattoria. Eh, me sa pure a me. Perché ha detto così mi padre, che se non gli paghi il conto, questo è l'ultimo pranzo che te manna. Se solo mi vendo un quadro, mi compro te, tuo padre, la bottega e tutta trastevere. Scafone capitalista che non è altro. Mio gragnoso. Comunque, figlia di una madonna, mi dai duemila lire di resto e siamo pari. Sì, così mi padre mi ha dato il gruppone. Tanto ce ne ha poche le madonne. E allora vai, va, che c'ho da fare. Più sta, più mi diventi antipatico. Stanotte mi teso pure insognata che me stavi a bacià e... eccetera. Come sarebbe eccetera? Insomma, era come se stavamo a Ostia. D'estate, su una spiaggia infocata, ma però deserta. Io e te, nudi. Nudi. D'estate, a Ostia, deserta. Senti com'è verosimile. Nandi, lascia perdere. Non diamo retta a sogni. Ma però se ero indiana... Ecco, bravo, fai l'indiana. Te ci mancherebbe pure questo. Adesso vattene, che mi devo cambiare. Eh, già. Io so buona solo a portate le razioni doppie. Che mi padre mi c'ha pure menato. Che ci vuoi fare, Nandi? Vai, va. Vado, vado. Te posso fa' una domanda? Basta che ti spicci. Però hai da essere sincero. Con quella ci vai perché l'ami... ...o perché te porta la droga? Che c'entra l'amore. No, perché sia per la droga un po' forse te la posso rimediare puro io. E dove la trovi? Posso sentire. Dei capelloni a bottega ce ne vengono tanti. Una volta l'ho pure visti che si facevano una sigaretta che hai mani. Saranno state chic. No, no. C'avevano una puzza strana, come dei pedalini abbruciati. Ma scisce, ma di pessima qualità. Vai, va. Che aspetti qualcuno? Sì, aspetto qualcuno. L'indiana? Sì, l'indiana. Ma che c'avrà più di me? E c'è che non rompe tanti i cosiddetti. La ridaglie. L'albero bacia la terra, l'onda bacia lo scoglio e io bacio il mio amore. Tanta scema. Oh, perdon. Ora avrò un hobby. Sei la fia di padrone del ristorante, ma va via subito. Ciao, Nandi. Grazie, eh. E le jolie? Sì. Parlez-vous français? Ma perché devi parlare francese? Questa c'è da fare. A me devi parlare romano, mi basta e mi avanza. Fuma? Chi io? Così mi padre mi ha visto. Non hai mai provato? Ma che stai dicendo? Non vedi che è una creatura? Perché io ho cominciato che avevo 12 anni, per una volta poteva essere divertente, no? Ah, mo capito. A droga. Vabbè, ce sto. Ci stai a fare che cosa? Ma non ti vergogni, alla tua età, così diventi più cretina di quello che sei. E tu per più diventerò credibile come te. Vai, se no ti drogo io con uno sbuffetonca ti faccio dormire per tre giorni. Non ti faccio fare, mon amore. Non ne vale la fine. Non abbrasse-moi. È una piccola stupida. Non devi arrabbiarti per lei. È una bambina sciotta. Ma che ti sei impazzita? Mi sono sbagliata. Uè, ma quella lì l'è proprio in marco. Cammina, va. Domani che ti porto? Asciutto o un brodo? Non mi importare più niente, non mangio più. Ma il conto quando vuoi paghi? Ti ha tuo padre che mi manda la fattura, è per posta. No, qui vigna che paghi il conto, se no io da qua non ho paura. Ma guardati lì, l'amore tu cammina. Ma venivo da te a imparare l'educazione, sta zoccola. E smettila. Ma te incontro, te faccio diventare negra, altro che indiana. E ne vuoi andare o no? Tizzo, ozzoni. È sangue? No, è sugo. Quando il sole tramonta, l'alba è ancora lontana. Eh, proprio così. Però stavolta mi devi spiegare che cazzo c'entra. Pronto? Se vi interessa, al vigolo del mattonato 112, non scantinato. Ce stanno due che se stanno androgano. Però a lui non c'entra. Non gli fate niente. Perché io... Io voglio bene. Do you speak English? Ete-vous français? Habla ispagnol? Ma... Di dove essere? De qua. De trastele. Ah, de qua. Hola, che tal? How are you? Fine, thank you. Ah, c'è, io non capisco perché per sentirsi liberi bisogna vestirsi d'ambecilli come questi qui. Per poter dimostrare quello che siamo. E il fatto è che mi muoio sta a fare pratiche per farmi rinchiudere al manicomio. Stiamo sempre lì. Corpa tua che subisca. E perché tu no? Io contesto. E contestami. Vorrà dica al manicomio e ci andremo insieme. Scusi? Scusi, lei contesta? Beh, sì. Nel mio piccolo. Permette? Enrico Formichi, artista lirico e drammatico. Contesto anch'io, posso? Come vedete mi sto facendo crescere la barba perché deve essere chiaro che contesto anch'io. Perché? Che gli è successo? Dovete sapere che io una settimana fa ho avuto la funesta avventura di perdere il mio cane, grande razza, unico conforto alla mia solitudine. Per cui, sfruttando la mia personalità, riesco ad essere ricevuto dal questore. Mi fa accomodare, mi offre una sigaretta e mi dice le sarei grato se non mi facesse perdere tempo. Le faccio osservare, eccellenza, dico io, con la mia innata signorilità ma asciutto, che lei, fino a prova contraria, è pagata per stare al servizio dei cittadini. Sapete come mi risponde, testuale, sul mio olore di uomo e di artista? Naturalmente, di tutti i cittadini sani di Mende. Sicché, secondo lei, io sarei un pazzo, un mentecaccio. A questo punto, sapete cosa ha detto il barbonico, lo stalinista, il repressore? O chiamo la Neura o lo faccio arrestare, scelga lei. Sono salvo per miracolo, ma da quel momento sono entrato a far parte della resistenza. Consideratevi uno dei vostri, pronti ad impegnarmi unitariamente a qualunque livello. Bombe Molotov, barricate, rivoluzione! Buongiorno, barricate, rivoluzione! Chi è? Aprite, polizia! Un momento, sto al cesso. Aprite, sfondiamo la porta! È aperta. Ah, la forza pubblica! Acqua buona, la forza, la vaseline, sì, sì! Ma tu chi sei? Vicebrigadiere Mazzullo Carmelo, sezione antidrucca. Agli ordini. Brigadiere, ma tu sei drogato? Gnorsi, due boccate, per motivo di servizio. Ah, questo è pure collega. Ma guarda in che situazione ma c'è troppo. Fate rivestire quella svergognata. Su, signori, rivestitevi, fate per sto piacere, va. Vieni, vieni. Ma dove vengo? Io sono in servizio. Fate per piacere, rivestitevi. Brigadiere, e mo? Come la mettiamo? E che ne so? Mandatemi all'ergastolo. Possiamo sempre dire che l'indiziata al momento dell'arresto era già latitante. Ma non dire fesserie. Esiste una denunzia, anche se da parte di Anonimi. Ma maresciò, è questa mortraggia? Agisci con fermezza. Signori, cercate di fare meno schifo. In quanto a lui, sempre facendo il nostro dovere, possiamo dire trovato in stato di ebbrezza, dovuta a sostanza non precisata. Mariana, ma non finisce così. La signora pubblica sicurezza mi deve risarcire. Ma che dici? Sì, signora maresciallo. Mi deve riconoscere tanto di pensione. Qui trattasi di vizio, contratti in servizio. Amico si scherza. Eh, non si scherza, no. Ma che cazzo stanno accucciando tutti e due?